Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo questa maglia speciale del Civas per la stagione in corso, in edizione FAN! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Questa maglia non credo sia ufficiale, o almeno io non l'ho trovata sui siti diciamo così normali, l'ho presa perché mi piaceva molto in questa giornata per celebrare e commemorare i defunti. Il costo, l'ho detto qui sopra, molto basso soprattutto perché la maglia ha un'ottima qualità e ottimi tempi di spedizione. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, andate a vedere questa e altre bellissime offerte che vi attendono. Prima di lasciarvi alla parte finale in cui vedrete le misure, vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale, a voi non costa nulla ma ci permette di mostrarvi sempre nuove recensioni. Alla prossima! Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. FAN! 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 FAN!